Faccio presente all'Aula che il 12 marzo 2021, nel corso del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo, la signora Cristina Becchi, vice-sindaco del PD, ha accusato la Lega, il partito di cui mi onoro di far parte, di aver lasciato morire la gente in mare. Praticamente ci ha accusato di essere degli assassini. Voglio rivendicare in questa sede che le istituzioni italiane sotto la guida della Lega non hanno mai negato il soccorso a nessuno laddove fosse necessario. Piuttosto abbiamo sempre combattuto contro il traffico di esseri umani e questo, al contrario di quanto afferma la disinformata vice-sindaco del PD, ha fatto diminuire sensibilmente il numero di morti in mare. Su queste offese gravi, gratuite e infondate, annuncio che presenteremo un atto di indirizzo, ci aspettiamo che prevalga il senso delle istituzioni e del reciproco rispetto. Ci aspettiamo che anche voi, come noi faremo oggi, sappiate utilizzare un solo peso ed una sola misura, condannando senza sé e senza ma le parole della signora Cristina Becchi. Per il momento, purtroppo, dal PD si sono levate soltanto le voci del segretario metropolitano del PD di Firenze e del collega consigliere Massimiliano Pescini, i quali, anziché condannare il fatto, hanno solidarizzato con il vice-sindaco di Borgo San Lorenzo, sacciando la Lega di voler censurare la libertà di espressione. Speriamo che l'Aula assuma un orientamento diverso e serio. Ringrazio il collega Landi, non vedo nessun altro iscritto.